Gestire i prodotti del tuo e-commerce è molto semplice e veloce. Entra nel back-end di WordPress, clicca su prodotti. Hai la possibilità di gestire tutti i prodotti, aggiungere un nuovo prodotto, gestire le categorie, gestire i tag, gestire gli attributi e gestire le recensioni. Se clicchi su tutti i prodotti, hai la possibilità di inserire un prodotto con la stessa funzione raggiungibile da Aggiungi nuovo o avviare l'importazione cliccando l'apposito pulsante. Con questa funzione è possibile importare i dati del prodotto da un file CSV o TXT. Aggiungiamo un prodotto. Hai una scheda generale dove inserire i dati del prodotto, il costo, l'immagine, la descrizione e altre informazioni. Una scheda prezzi dove inserire il costo di listino, quello in offerta e come comportarsi con le imposte. Una scheda inventario, da cui puoi arrivare all'inventario generale del negozio e gestire la disponibilità del singolo prodotto e a quale classe di spedizione deve essere associato. Facciamo insieme un inserimento tipo. Partiamo dalla categoria. Dal menu prodotti, clicca categorie. A sinistra, dove c'è, aggiungi una nuova categoria, dalle un nome. Scegli uno slag e decidi se deve essere una categoria principale o una sottocategoria, semplicemente assegnandogli un genitore. Quando hai finito, clicca il pulsante in fondo. Ora è il momento di inserire un prodotto. Clicca Aggiungi prodotto e inserisci i dati richiesti, tra i quali c'è l'immagine e più in basso la categoria, che troverai nel menu a tendina. Quando hai finito, ricordati di cliccare in alto su Aggiungi. Se vuoi aggiungere o modificare categorie in seguito, potrai farlo cliccando su Tutti i prodotti e poi modifica.